Proseguono gli appuntamenti con il progetto PON del liceo scientifico Alfonso Gatto, se un uomo libero allora sei pronto a metterti in cammino, per questa uscita i ragazzi visiteranno il villaggio abbandonato di Trentova Tresino. Beh, devo dire entusiasmante, ho visto i ragazzi che hanno partecipato attivamente, curiosi, hanno fatto domande relative all'ambiente, alla natura, ai fiori, alle piante, è veramente interessante. Per noi professori poi lavorare al di fuori dei confini dell'aula è qualcosa di speciale, il rapporto con i ragazzi è molto più diretto, è molto più immediato, è un modo diverso di percepire la didattica anche. Chiaramente il cammino è un po' accidentato e quindi la lentezza ma l'entusiasmo di arrivare in vetta c'è sempre, insomma, la montagna prevede questo. Bellissimo il paesaggio, le piante, quindi sono stimolati e curiosi a conoscere, insomma, questo è l'intento oltre che fisico, anche quindi mentale. E soprattutto anche rincuorare e rinfrescare il nostro animo con questo clima bellissimo, questa vegetazione straordinaria, soprattutto in questa stagione, diciamo. Insomma, una bella esperienza da rifare, da riproporre e da proporre agli studenti per la conoscenza del territorio, per il rispetto del territorio e soprattutto, insomma, per la valorizzazione del territorio. Oggi siamo su un sentiero naturalistico tra i più belli del Parco Nazionale del Cilento, che paradossalmente anche molti di Agropoli non conoscono. Invece è una macchia mediterranea bellissima, incontaminata, dove ancora l'ambiente è tutelato e noi dobbiamo contribuire affinché questo ambiente rimanga sempre così, incontaminato. Beh, io penso che esperienze del genere, proprio come queste passeggiate che stiamo facendo, possono aiutarci in qualche modo a riscoprire la natura e a riscoprire quello che sta intorno a noi. Le nostre zone sono, a mio parere, la parte più bella del Cilento, quindi perché buttare rifiuti, perché gettare l'immondizia in mezzo alla natura, in mezzo al mare, è una cosa insensata. Quindi anche quello che stiamo facendo, secondo me, è un punto in più, un passo in avanti verso questo percorso di non inquinamento e di rispetto in più verso il nostro paese. È stata una bellissima esperienza. Non c'è niente di più bello che stare all'aria aperta e soprattutto con gli amici. Sì, la consiglierei perché è molto interessante dal momento che si visita un posto di Agropoli che io, vivendo ad Agropoli, assolutamente non conoscevo e non avevo mai visitato. Ma poi perché è molto bello immergersi nella natura senza pensare al caos, quindi a tutti i problemi che magari uno ha in generale nella vita quotidiana. E poi è sempre bello passare del tempo e quindi un pomeriggio insieme, con gli amici, che ci dà modo di socializzare, di conoscere, di ampliare il nostro orizzonte, la nostra mente. Quindi sì, lo consiglierei assolutissimamente. Grazie a tutti.